Gare truccate per l'autostrade siciliane, max inchiesta della DIA. Il presidente Crocetta difende l'accordo con Eni per l'estrazione del petrolio. Ancora un incontro in Roma sull'ex Fiat di Termini Merese. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews. Oggi è martedì 18 novembre. Gare truccate per l'autostrade siciliane, max inchiesta della DIA. Otto le persone arrestate, tra queste anche funzionari ed imprenditori. Maxi operazione della DIA sui appalti del Consorzio Autostrade Siciliane. Funzionari del CAS e imprenditori sono accusati a vario titolo di turbativa d'asta, induzione a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione. Gli arrestati sono otto e si trovano ai domiciliari. Sono stati inoltre sequestrati i beni per complessivi 100.000 euro nei confronti di uno degli indagati. Al centro delle indagini la presunta turbativa d'asta per l'assegnazione dei lavori del servizio di sorveglianza della A18, la Messina Catania e Siracusa Rosolini e la A20, la Messina Palermo. Tutte arterie ben note alle cronache per i numerosi e recenti allagamenti. L'inchiesta della DIA di ramazioni nazionali. Tra gli arrestati ci sarebbero infatti anche esponenti eccellenti dell'imprenditoria, ma anche funzionari che da sempre sono stati molto vicini agli ambienti della politica. La gara sarebbe stata turbata attraverso un accordo sulle percentuali in ribasso. L'episodio risale al 9 maggio del 2013, quando l'appalto da 8 milioni di euro fu bandito con somma urgenza dopo essere stato revocato. Nell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare sono stati impiegati 80 uomini della DIA, effettuate perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, che potrebbero portare a clamorosi sviluppi nei prossimi giorni. Sono quindi gli 8 gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Messina nell'ambito dell'operazione che coinvolta imprenditori e funzionali del Consorzio Tostade Siciliane. I provvedimenti riguardano 5 imprenditori, i fratelli Giacomo e Antonino Giordano, Francesco Duca, Rossella Veneto e Giuseppe Iacolino. L'ordinanza è stata notificata anche al dirigente del CAS, Letterio Frisone, e al funzionario dello stesso Consorzio, Filadelfio Scorza. Agli arresti domiciliari è stato posto anche il componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCS, Policlinico di San Matteo di Bavia, Filippo Filippi. Trivellazioni, Sicilia sempre più divisa sul fronte delle estrazioni petrolifere. Il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia all'Arza, mentre il PD sta ancora cercando una linea da seguire. La questione trivelle nel Mediterraneo continua a dividere. Da un lato c'è il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, che difende gli accordi siglati con Assominerari e con Leni. Un protocollo che, secondo lui, porterebbe sviluppo per le imprese con attenzione alla salvaguardia del territorio. Dall'altro ci sono il Movimento 5 Stelle e il PD, che attaccano il governatore comunicando di avere intenzione di mettere in campo provvedimenti urgenti per bloccare le estrazioni petrolifere in Sicilia. La polemica ruota attorno al decreto Sblocca Italia del Governo nazionale, che semplifica l'iter autorizzativo per le trivellazioni. I pentastellati hanno dichiarato guerra aperta all'Arza e mirano a lanciare un referendum abrogativo dell'articolo 38. Hanno proposto inoltre una legge voto per chiedere al Governo di fare pressioni a Roma sul fronte delle autorizzazioni. Secondo la deputata 5 Stelle, Angela Fotice, troppe ignoranze in materia. I permessi ad estrarre hanno un impatto devastante sul già sofferente ecosistema del Mediterraneo, che va evitato a tutti i costi. Anche il PD si schiera contro il presidente e contro le estrazioni petrolifere. Il gruppo parlamentare però, che appare ancora diviso al suo interno, sta cercando di trovare una linea comune per chiedere maggiori tutele alle coste siciliane. Il presidente Crocetta invece difende l'accordo con Eni per l'estrazione del petrolio nel territorio siciliano, che secondo lui favorirà lo sviluppo delle imprese. C'è una regione al mondo, un paese al mondo, dove esiste il petrolio e non si estrae, e non si vente. Magari ne avessimo di più. È il nostro oro nero, no? Noi abbiamo fatto un accordo vantaggioso per la Sicilia, perché il petrolio estratto sarà estratto solo da imprese che hanno sede legale in Sicilia. E quindi avrà un vantaggio che stimiamo intorno tra i 350 milioni e i 500 milioni di euro l'anno, che sono soldini. Favorisce lo sviluppo delle imprese e il consolidamento dell'occupazione, delle imprese della produzione delle trivelle, dove potranno lavorare i cantieri navali. Favorisce la raffinazione del prodotto prioritariamente in Sicilia, quindi si lavorerà a Siracusa, Augusta e Milazzo. C'è la riconversione pure della raffineria di Gela, ci sono le entrate per la regione, le estrazioni non inquinano affatto, perché forse io vi vorrei portare a vedere cos'è una pompa, una cosa è la trivella nella fase di ricerca che è alta, ma poi quando trovate il petrolio, una pompa non è più alta, è fra due metri o tre metri massimo, non ha alcun impatto paesistico, è un tubo che entra nella terra, pompa il petrolio, trasferisce una pipeline, quindi non ha nessun contatto esterno. Nell'accordo che abbiamo fatto con l'Eni addirittura c'è il miglioramento e la bonifica ambientale di tutti i siti coinvolti anche alle stesse estrazioni e il miglioramento delle estrazioni di bombaggio attuale per ridurre il rischio di inquinamento. Nelle modalità di non abbiamo autorizzato espressamente nessuna cosa, salvo a guardare un piano, è che dentro questo piano le singole autorizzazioni verranno date solo se non solo sono compatibili con l'ambiente, ma siano anche compatibili con il paesaggio e con il rispetto dei beni monumentali ed archeologici. L'ex assessore regionale alla formazione nell'Iscilabra prenderà il posto di capo della segreteria particolare del presidente della regione, Rosario Crocetta, sarà lei a proseguire dunque il cammino di Michela Stancheris e Mariella Lobello. La scilabra nell'occhio del ciclone politico a seguito del flop del piano giovani rientra dunque nell'avvicendamento tra segreteria e giunta voluta proprio dal governatore. Non potrà però avere la guida dello sportello per l'internazionalizzazione perché le manca ancora la laurea. Ancora un incontro a Roma sulla ex Fiat di Termini Merese proposta la mobilità incentivata su base volontaria per i 770 operai della Fiat e della Magneti Marelli in possesso dei requisiti per la pensione. Nuovo vertice sull'ex Fiat di Termini Merese a Roma. Secondo quanto riferito dai sindacati, nell'incontro con la FCA sarebbe stata proposta la mobilità incentivata su base volontaria per i 770 operai della Fiat e della Magneti Marelli in possesso dei requisiti per la pensione. Questa misura ridurrebbe l'organico che con la cessione del ramo di aziende passerebbe da Fiat a Grifa. Sono 1.100 gli operai di Fiat indotto in cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre. FCA ha già avviato le procedure di licenziamento collettivo. Secondo la FIOM la cessione del ramo di aziende e il passaggio di stabilimento e operai dalla Fiat di Termini a Grifa va discussa dopo che il governo e Invitalia avranno date il via libera alla solidità finanziaria della società che è disposta a costruire auto ibride nell'ex fabbrica dell'ingotto. Per la FIOM altro passaggio è definire la PQ per rilanciare il polo termitano con la destinazione alla riqualificazione dell'area industriale di 350 milioni di euro tra fondi nazionali e regionali. Posizione meno critica da parte della Wilm che sottolinea la necessità che il progetto si concretizzi sul serio per dare un futuro certo ai lavoratori. La FIM Cisla aggiunge che Grifa ha confermato l'impegno di carattere finanziario sul progetto. In settimana verrà conclusa l'operazione per rendere disponibili i primi 25 milioni. Garante sarà una banca italiana. La nave MSC Armonia ha lasciato lo stabilimento Fincantieri di Palermo dove è rimasta per 10 settimane per essere sottoposta ad una innovativa operazione di allungamento. Adesso questo colosso del mare è pronto per affrontare il viaggio inaugurale. Dopo poco più di 10 settimane dal suo arrivo avvenuto il 31 agosto scorso, ieri è ripartita dal porto di Palermo la MSC Armonia. La nave che ha inaugurato il programma Rinascimento di Fincantieri ed MSC Crociere, un piano da quasi 200 milioni di euro a cui saranno sottoposte tutte e quattro le navi della classe lirica di MSC. La nave ha lasciato il cantiere per fare rotta su Genova dove oggi festeggerà il suo ritorno in mare prima di salpare per la sua crociera inaugurare di 10 giorni alla volta delle isole Canarie. I lavori a cui è stata sottoposta hanno permesso di allungare fisicamente la nave di 24 metri attraverso l'inserimento al centro dello scafo di un nuovo troncone ottenendo in questo modo circa 209 cabine, nuovi spazi dedicati all'intrattenimento, nonché il rinnovamento delle boutique di bordo e l'adozione di soluzioni tecnologiche d'avanguardia per l'intera unità. Un'operazione unica nel suo genere mai realizzata prima su una nave di tali dimensioni fuori dall'acqua. Gli ingegneri di Fincantieri hanno marcato la linea di taglio per consentire un'accurata sabietura dell'area, proseguita poi con la disattivazione degli impianti elettrici della nave e completata infine con il definitivo taglio. Un ballottaggio, due sindaci eletti al primo turno, questi risultati del voto in tre comuni, reduci dallo scioglimento per mafia. A Misilmeri si sfideranno al secondo turno, il 30 novembre, Rosalia Stadarelli dell'EPD che ha raggiunto il 37% e Giovanni Lofranco, giovane esponente della società civile con il 22%. A Isola delle Femmine eletto Stefano Bologna, ex sindaco del centro-sinistra, con il 58% ha sconfitto Antonio Rubino e il grillino Massimiliano Adelfio, fermo al 5%. A Campobello di Mazzare è stato eletto Giuseppe Castiglione del centro-sinistra con 3.357 voti. Archiviata dopo bente richiesta della Procura ed altrettanti supplementi di indagini, l'inchiesta sulle presunte irregolarità nell'iter amministrativo per la realizzazione del porto turistico di Sant'Erasmo, un affare da oltre 14 milioni. Nessuna accusa secondo il GIP può essere mossa ai due indagati, l'ex sindaco Diego Cambarata e l'ex presidente dell'autorità portuale Nino Bevilacqua. Il fascicolo ipotizzava inizialmente reati di truffa aggravata e di abuso d'ufficio e venne aperto nel 2009. L'amministrazione comunale di Palermo ha bandito una seconda edizione dell'avviso per la concessione di un contributo per le famiglie che versano in condizioni di disagio alloggettivo per il pagamento dei canoni di locazione. Il contributo è ovviamente possibile, se ne faranno richiesta anche per le 38 famiglie che hanno ricevuto lo sfratto da parte dell'Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini. Per poterne fruire necessaria la stipula di regolare i contratti d'affitto anche successivamente alla concessione del contributo stesso. Nel caso delle famiglie occupanti, il villaggio dell'ospitalità è la stessa Opera Pia che potrà permettere la stipula dei contratti sospendendo la procedura di esecuzione degli sgomberi. Primo caso di divorzio lampo a Palermo. Una coppia sono bastati solo sei giorni per dirsi addio. È stata applicata la nuova legge entrata in vigore lo scorso martedì. È bastata una settimana una coppia di palermitani per dare un taglionetto al loro matrimonio. Il tutto è avvenuto grazie a un divorzio lampo attuato con le nuove norme in materia che sono entrate in vigore martedì 11. Si tratta del primo caso a Palermo che ha trovato la sua applicazione come una negoziazione attuata dagli avvocati della coppia. È bastato così che la procura desse un nulla osta per sciogliere il matrimonio tra un professionista e un'impiegata senza figli separati dal 2007. Dirsi addio senza un procedimento, senza trafile e sentenze che gravano sull'efficienza della giustizia civile e il cosiddetto divorzio fai da te in attesa del divorzio breve. Sono gli avvocati ormai i protagonisti della negoziazione che punta a ridurre non solo i tempi ma anche la conflittualità nelle coppie che scoppiano. C'è ovviamente anche un controllo di legalità da parte dell'autorità giudiziaria che vaia la rispondenza degli accordi alla legge. Non è più compito di un giudice ma del pubblico ministero. I due ex coniugi palermitani hanno dimostrato di essere una coppia senza figli, di non avere attribuzioni patrimoniali perché avevano già diviso i beni comuni. Di fronte a questo, al procuratore aggiunto di Palermo, Dino Preteralia, non è rimasto da fare altro che prendere atto che le condizioni c'erano e dare così il nulla osta ai due palermitani, che da ieri non sono più una coppia a tutti gli effetti. L'amministrazione comunale di Bagheria informa che il 16 dicembre prossimo scade il termine per pagare la seconda rata a saldo dell'Imu, l'imposta municipale propria con relativo conguaglio di quanto già versato in acconto. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato unicamente a mezzo del modello F24. Anche la tasi scade il 16 dicembre e le condizioni di pagamento sono le stesse dell'acconto. E oggi nella chiesa di San Giovanni Bosca a Bagheria sarà presentato il libro di Giuseppe Savagnone Il Vangelo nelle periferie e comunicare la fede nella società liquida. Saranno presenti oltre all'autore Don Francesco Michele Stabile ed Enzo Buttitta, docente dell'ITES Luigi Sturzo di Bagheria. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.